La scelta di un eventuale assessore esterno, come se non ci fossero già le professionalità interne, dite di avere tante menti pensanti, capaci, però poi... Siamo la lista dei Guinness, sette laureati... E intanto si ricorre agli assessori esterni? No, ho solo l'idea, l'ipotesi di un assessore esterno nella casella più delicata che è il bilancio, perché sai, quando c'è un comune quasi in dissesso e bisogna andare a parlare con i magistrati della Corte dei Conti, Bisogna andare a rimodulare... Non è Roma capitale? Noi ci teniamo come se fosse Roma capitale a Crispiano e quindi gli diamo tutte le attenzioni del caso.